Grazie a tutti. Ecco, brava Lucia Esci, ha premuto lei il tasto e prego per Margherita, per la sua verifica, diglielo pure, non c'è problema. L'ho fatto a memoria praticamente perché dopo due volte che l'avevo ascoltata e ne avevo capito il senso, sono andata a memoria con il controllo della Lucia che se sbagliavo ho sbagliato una volta. Quindi sì, hai avvocato, sono andata a memoria. Quindi anche quella funziona. Degomigata, no scusa, ti stavo parlando in Veneto, non ho più scuse. Bene, adesso riposo, a te buono studio con Margherita, un abbraccio forte, 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 forte. Ciao, ti voglio bene, salutami tanto Margherita e tutta la tua famiglia. Ciao, adesso rimetto la sintesi. No, anzi, me la rimetto, no. No, anzi, me la rimetto, no. Oh Spirito Santo, vieni nel mio cuore. Per la tua potenza attiralo a te, oh Dio, e concedimi la carità con il tuo timore. Liberami, oh Cristo, da ogni mal pensiero. Riscaldami e infiammami del tuo dolcissimo amore, così ogni pena mi sembrerà leggera. Santo mio Padre e dolce mio Signore, ora aiutami in ogni mia azione. Cristo amore, Cristo amore, Cristo amore, Amen.